e sorpresa sorpresa veramente sorpresa siamo di nuovo qua sembra così dobbiamo fare abcd ma si è scaricato anche le batterie del tablet in attesa di sostituire il tablet lavorare sul tablet sistemare la memoria deciso di ritrasmettere trasmettere qui a k radio k radio bologna chiamatela come volete come credete e io sono maurizio maurizio la giaclino ovviamente qui dai nostri studios e però ora facciamo una telefonata è già vediamo se siamo fortunati perché lui viaggia viaggia sempre anche noi siamo in vacanza ma siamo sempre qui lavoriamo lavoriamo qui a k radio bologna gmail.com per contattarci per qualsiasi situazione ecco controllate tutte le nostre trasmissioni che abbiamo fatto anche in formato testa ci sono delle novità delle sorprese per tutti e abbiamo poco tempo e lo dico non è una vera trasmissione questo ma è un collegamento ovviamente già 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 con chi ma lo scopriamo se siamo fortunati allora vediamo un po di cominciare a fare dei collegamenti in diretta perché veramente oggi la vedo la vedo non semplice perché intanto le cicale continuano a suonare e farsi sentire ecco qui suona tutto bene tra un po suono io ecco dovremmo essere collegati con uno che va la viaggia verso dobbiaco da quello che so io per circa una settimana ecco intanto è arrivata la gaza ecco arrivata la gaza qui è ovviamente k radio vediamo se siamo fortunati a prendere la linea perché oggi non ho nessuna regia non funziona più la linea telefonica ecco forse siamo riusciti ecco siamo riusciti a collegarci ecco siamo in diretta mondiale primo agosto 2021 ecco vediamo se riusciamo a collegarci allora pronto eccoci qua no dicevo scusa ma qui è tutta una telefonata adesso a sinistra ma mi chiami fra cinque minuti perché sono da strada mi chiami fra cinque minuti ma sei già a dobbiaco no no mi fermo in qualche posto cinque minuti ah sì sì non ho mai quello è colazione già fatta chiami fra cinque minuti ah brutto momento va bene bene va bene ecco signori questo è il bello della diretta signori il bello della diretta anche questo così vedete che qui a k radio k radio bologna eccetera è così non ci sono copioni e probabilmente io sono il maestro magari di tanta gente che siete voi ascoltatori che io con la mia mano dirigo eh pensate che i nostri primi jingle ancora ad antena verde no non ad antena verde prima rette network ma viene a piovere pr prima rette network non mi niente oggi eh non sarà l'effetto non lo so di che cosa forse immaginate eh del tipografo eh forse no sto scherzando eh no perché deve fare i nostri gadget i nostri adesivi con questa gigante cappa eh non vi dico come eh magari andate nel sito qualcosa vedete se avete la possibilità se non siete al mare montagna eh sì altrimenti vado a dirigere un concerto di alpini eh tra un po' sì eh certo www.letteralmente.info tutti sono in vacanza tutti i collaboratori sono in vacanza anche Maria Grazia è in vacanza devo dargli uno scoop per quanto riguarda la sua città di castello nada ne nada bene facciamo un altro tentativo proviamo a collegarci con vignola e poi chiudiamo chiudiamo perché io ho da fare eh scusate ho tanto da fare però io volevo ricordare allora note web radio plus eh il gruppo su facebook non esiste più da ieri ecco intanto qui stanno telefonando adesso a sinistra pronto? ecco adesso ci sono mi sono fermato ecco eh dammi il tempo un minuto un minuto e mezzo eh ok allora eh allora vediamo un po' eh c'è una riunione in corso eh allora quando io dico i collaboratori che dovevano chiamare quando dovevano chiamare ormai è tardi eh deciso che note web radio è in stand by per ora poi un domani non si sa allora noi chiudiamo qui allora a questo punto chiudiamo qui eh buon tutto alla prossima i migliori saluti e grazie a tutti continuate a rimanere con noi eh mi raccomando ciao buona domenica